La 48esima edizione dei premi internazionali Flaiano prende ufficialmente il via sabato 26 giugno con la rassegna cinematografica del Flaiano Film Festival, presentato questa mattina in conferenza stampa presso il Media Museum di Pescara. Si riparte con tutte le misure di sicurezza richieste dall'emergenza sanitaria e soprattutto con la voglia di riconfermare e superare i numeri importanti della precedente edizione con l'obiettivo di aprirsi al pubblico avvicinandolo al festival, come ha spiegato il regista Riccardo Milani, direttore artistico del Flaiano Film Festival. Intanto esserci è già un risultato importante. Il Flaiano quest'anno ha dalla sua la forza dello scorso anno, essere riusciti a portare a termine l'edizione nelle condizioni difficili che la pandemia ha provocato ci dà ancora maggiore consapevolezza. Il Flaiano Film Festival diventa più centrale anche rispetto ai premi Flaiano e di questo ovviamente sono molto contento. Molti film verranno proiettati per la prima volta in sala a contatto col pubblico e anche questo è una cosa che ci rende molto felici. Come è successo per le edizioni precedenti, questo è il quarto anno per me dalla direzione artistica del festival, il tentativo è quello di avvicinare più possibile il pubblico al festival, ai festival in generale. Non mi piacciono mai i festival che si chiudono in se stessi e chiudono le porte al pubblico più largo. Anche quest'anno infatti il Flaiano Film Festival fa lo sforzo di avvicinare il pubblico. Lo fa con le sezioni per bambini, lo fa con film di commedia popolari, ma lo fa anche allargando l'orizzonte a film che in qualche modo analizzano la trasformazione della società. Problemi che sono venuti ad acuirsi negli ultimi anni e mezzo con le tensioni sociali che la pandemia ha provocato. Le proiezioni dei film in rassegna si terranno come da programma, consultabile sul sito dei premi Flaiano insieme ai prezzi dei biglietti e dell'abbonamento presso il teatro d'annunzio. Si comincia il 26 giugno per proseguire fino a venerdì 2 luglio, poi sabato 3 e domenica 4 sarà la volta delle premiazioni, come ricordato anche dalla presidente dei premi internazionali Flaiano, Carla Tiboni. Siamo contenti di essere non i primi in senso proprio, ma di dare di nuovo respiro e ossigeno al cinema, al mondo del cinema, a tutti gli operatori culturali che lavorano nell'ambito dello spettacolo. Vorrei ringraziare quanti hanno lavorato per comporre questo festival. Non è stato semplice perché era tutto ancora bloccato a causa dell'emergenza sanitaria. Quindi è stato un lavoro che ci ha portati a dare il massimo di impegno per regalare a Pescara questo grandissimo spettacolo che ormai è diventato il premio Flaiano, il Flaiano Film Festival.